Claudia Mercurio, sarai la voce narrante di questo spettacolo dedicato ai 30 anni di carriera di Angelo Di Gennaro. Una scelta particolare e per te, diciamo, un approccio con il teatro. Assolutamente sì. Angelo, siamo amici da circa 10 anni e per la sua festa dei 30 anni abbiamo deciso di collaborare insieme e quindi staremo sul palco insieme così io narrerò la sua vita. Ovviamente 30 anni di carriera, come diceva lui, sono tanti ma sono assolutamente pochi e sono contenta di dare il mio apporto e sarò la sua anima, il suo vero io, il suo essere femminile perché dietro quell'uomo, quel volto così da comico quindi che far ridere, combattute, lazzi eccetera, si nasconde una persona di una sensibilità assoluta.